ciao peter buongiorno ben trovato siamo qua nel ritiro in costa del soli spagna come procede il lavoro dell'empoli in questa ripresa in questo ritiro in terra america un buongiorno sì adesso siamo qui a spagna a marbella alleniamo bene per noi è tutto tutto bene siamo felici che siamo qui prepariamo tutto per questa prima partita empoli che ha già giocato un amichevole ne arriverà un'altra venerdì col wolverhampton per chiudere questa prima parte non conta il risultato però lo spirito che ci avete messo non è cambiato rispetto alla cremonese e alle ultime gare sì in questa partita si vinciamo ma non è importante questa vittoria ma è importante come giochiamo come squadra perché anche questi allenamenti sono difficili e siamo un po stanchi ma è importante come giochiamo come squadra e questo è importante per noi giocare ma anche lavorare e sfruttare questo periodo per mettere dentro l'energia dentro benzina verso la ripresa del campionato e questo un po il motivo principale di questa settimana e poi di tutto il percorso che ci riporterà a gennaio quando ripartirà il campionato si facciamo tutto per arrivarci bene a questa prima partita e anche altre ma adesso è importante se alleniamo bene giochiamo bene giochiamo contro due difficili a viziare e proviamo tutto in questo ritiro e facciamo tutto che se arriviamo perfetti a questa partita contro udine e dopo anche altre partite facendo un passo indietro guardando il percorso dell'Empoli 17 punti tante buone cose ma come ha sottolineato anche il mister si è fatto tanto ma non abbastanza c'è ancora da fare molto per arrivare all'obiettivo e non si deve assolutamente accontentarsi siamo felici che facciamo 17 punti ma come squadra possiamo meglio perché abbiamo tanti buoni giocatori e anche come squadra siamo perfetti e adesso alleniamo bene e facciamo tutto come dico prima prepariamo tutto per queste partite che 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 giochiamo adesso in secondo campionato lo hai detto tra un mese si riparte arriverà l'udinese sarà la prima di tante partite ravvicinate ci sarà bisogno di tutti e l'Empoli in questo periodo in questa prima parte l'ho fatto vedere di avere tante soluzioni un gruppo che veramente può dare tanto sì siamo una buona squadra come giocatori e come ragazzi e adesso in questo questo tempo è troppo importante per noi facciamo tutto che dopo questo campionato siamo salvi perché questa squadra se lo merita l'ultima domanda che ti faccio è non parla solo di Empoli chi lo vince il mondiale? penso di me Brasilia grazie a tutti grazie a tutti